Il cinema fa sognare. Noi utilizziamo il cinema come terapia e sostegno psicologico negli ospedali e nei centri di cura su adulti e bambini. Il cinema però è anche una vera cura. Abbiamo assistito oltre 45.000 persone, migliorando il loro stato psicofisico oltre il 50%, riducendo l'ansia e lo stress oltre il 35% con riduzione del dolore fino al 25% nei pazienti. Per queste ragioni ti chiediamo di donare il tuo 5x1000 a Medicinema Italia. Aiuterai il cinema come cura e la ricerca clinica sulla cineterapia per il benessere e la qualità della vita. Grazie.